Allora, buongiorno a tutti e a tutte, sono Cecilia Cognini, sono la dirigente del servizio Biblioteche della città di Torino da giugno del 2022, sono molto felice stamattina di poter introdurre i lavori di questa importante giornata che ha un tema che a noi sta particolarmente a cuore, adesso proverò a spiegarne le ragioni, sul confine le collezioni delle biblioteche tra gestione, produzione editoriali ed esperienze di lettura. L'iniziativa è promossa e organizzata dal Dipartimento di Studi Storici dell'Università degli Studi di Torino, in collaborazione con le biblioteche civiche torinesi, con l'editrice bibliografica e con il patrocinio della sezione Piemonte dell'Associazione Italiana Biblioteche. Perché il tema alle biblioteche civiche della nostra città per noi è particolarmente importante? Sostanzialmente per tre ragioni. La prima è perché il lavoro che stiamo impostando anche di riorganizzazione del nostro sistema bibliotecario parte da una visione e da un affondo strategico sulla biblioteca pubblica che cerca di metterne a fuoco tutte le componenti, partendo da quelle che sono anche le radici di missione e di ruolo delle biblioteche. Quindi il rapporto con i contenuti, l'organizzazione dei contenuti, l'organizzazione delle collezioni. Noi come biblioteca abbiamo lavorato molto su questo fronte e voglio ringraziare il professor Maurizio Vivarelli dell'Università degli Studi di Torino perché abbiamo da poco rinnovato una convenzione che ci sta consentendo di portare avanti un importante lavoro di mappatura delle nostre collezioni storiche contemporanee anche pensando alla nuova ricollocazione di queste collezioni all'interno dello spazio destinato alla nuova biblioteca civica centrale di Palazzo delle Esposizioni al Parco del Valentino. Quindi questa è la prima ragione, una visione della biblioteca che tenga insieme tutte le componenti e che quindi radichi il ruolo delle biblioteche a partire da quello che è chiaramente definito anche nel manifesto IFLA-UNESCO sulla biblioteca pubblica di Dublino del 2022 che mette chiaramente a fuoco le due linee di lavoro. Da un lato il punto di riferimento per la società della conoscenza, dall'altro, l'altra parola importante che il manifesto introduce, quella della società del benessere. Quindi l'importanza di costruire relazioni che migliorino la qualità di vita delle persone e quindi che lavorino anche a partire dallo specifico delle biblioteche per rafforzare le componenti di relazione che le biblioteche sanno mettere in campo nel loro agire quotidiano. Secondo tema, secondo punto. Il secondo punto è quello che ci vede oggi essere stati scelti come infrastruttura sociale e infrastruttura cittadina principale nei processi di rinnovamento della città. Il piano strategico varato dalla città di Torino si chiama Torino Cambia e Torino Cambia anche le biblioteche con un sostanzialmente investimento della linea del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 5 2.2, coesione sociale, mettendo al centro proprio le nostre biblioteche territoriali. Noi ne abbiamo 18, il piano consentirà di riorganizzarle sia dal punto di vista dell'infrastruttura digitale che dal punto di vista dell'infrastruttura degli allestimenti dei luoghi ma a partire dal lavoro che dicevo prima. In sala c'è il nostro coordinatore, il dottor Tordolo, che segue tutte e anche le procedure di revisione delle nostre collezioni, abbiamo lavorato molto con la soprintendenza archivistica e bibliografica del Piemonte per mettere a punto un processo che consentisse proprio anche di dare maggiore spessore alla funzione di rappresentazione della contemporaneità che le biblioteche pubbliche debbono svolgere. Il piano integrato interviene sugli spazi delle biblioteche, interviene quindi sui contenuti delle biblioteche porta nelle biblioteche i soggetti del terzo settore che accompagnano l'attuazione integrale del piano ci porterà ad avere dei nuovi bibliobus, peraltro siamo proprio nella fase di aggiudicazione delle prime procedure di gara e quindi dal 2024 questo cambiamento della città subirà un'accelerazione importante. Il piano interviene anche sui luoghi esterni alle biblioteche, cioè nei parchi, nei giardini, nelle aree di connessione tra biblioteca e biblioteca. Secondo, terzo punto, la nuova biblioteca civica centrale, l'ho detto prima è un punto di forza della nostra visione strategica sulle biblioteche pubbliche perché mette insieme il rinnovamento del sistema con il ripensamento della biblioteca centrale nelle sue funzioni, nell'organizzazione dei contenuti e ovviamente nella ricollocazione in uno spazio che, come sapete, è uno spazio che è nato tra il 38 e il 58, quindi in diverse fasi ma con il lavoro che abbiamo fatto per la progettazione biblioteconomica, anche qui grazie all'apporto del professor Vivarelli, trova un nuovo valore, un nuovo significato. Questo lavoro proseguirà, sta proseguendo, da gennaio accresceremo anche i momenti di confronto pubblico sulla nuova biblioteca centrale. Mi fermo qui, ringrazio intanto tutti i relatori, tutti voi, passo la parola a Massimo Belotti della casa editrice bibliografica, nonché persona che voi conoscete tutti, direttore di biblioteche oggi e anche sostanzialmente punto di riferimento fondamentale per la storia e la vita del convegno delle stelline. Grazie, grazie Cecilia. Adesso capisco perché mi avete collocato nello slot dei saluti delle istituzioni. In pratica il mio ego smisurato mi farebbe dire perché sei un'istituzione, sei diventata praticamente un'istituzione dopo tanti anni che imperversi tra convegni, riviste, libri nel nostro settore. In fondo anche l'AIB te l'ha un po' riconosciuto l'anno scorso questo ruolo. Dunque mi porto a casa questa illusione di essere anche un po' istituzione. Poi ridimensiono la mia megalomania, ripercorro il programma e vedo che accanto al mio nome c'è l'etichetta editrice bibliografica. La stessa etichetta che compare, ma voi non l'avete ancora vista, nella copertina dell'ultimo libro di Cecilia Cognini, che non dovevo dirlo, mi suggeriscono l'orecchio. Invece io vi dico, non solo che lo dico, ma che vi invito a leggerlo perché è un libro molto interessante sulla biblioteca come progetto, anzi per l'esattezza come progetto aperto, mi pare che fosse il titolo. Quindi non lo troverete neanche sul banchetto dove abbiamo messo un po' le novità dell'editrice bibliografica, perché così insomma ci siamo messi d'accordo con Cecilia, che lo teniamo ancora lì come un oggetto misterioso. L'editrice bibliografica non è di per sé un'istituzione, è una casa editrice, però per certi aspetti è anche un'istituzione, per i bibliotecari è un'istituzione. Addirittura molti bibliotecari la definiscono la casa editrice dei bibliotecari. Da quando, cioè nel 1974, tra poco sono 50 anni, l'editrice bibliografica ha avviato questo lavoro, che prima non esisteva nel nostro paese, di formazione e aggiornamento dei bibliotecari attraverso pubblicazioni e poi via via riviste, poi convegni e poi altre attività. Per cui questo lavoro, questa portata ad assumere, ad acquistare un ruolo leader nel nostro settore e a diventare molto riconosciuto e riconosciuto dai bibliotecari. Come si vuol dire in questi casi, un ruolo di nicchia che ha i suoi aspetti controversi, cioè da una parte se occupi un ruolo di nicchia non diventerai mai ricco, non è un ruolo che permette grandi possibilità dal punto di vista anche commerciale, però ti permette di essere molto riconosciuto e anche, scusatemi la retorica, è anche amato nel settore in cui ti rivolgi. Quindi io oggi qui sono anche, per un paio di motivi, porto questo saluto tra virgolette istituzionale. In altri termini, questo discorsetto che ho fatto adesso sulla bibliografica leader nel settore della biblioteconomia e dintorni, fa sì che io sapevo di ritrovare qui gran parte degli autori, tra i relatori del convegno di oggi, gran parte degli autori della nostra casa editrice. Non vorrei fare torto nessuno, ma se mi volgo a sinistra trovo Maurizio Vivarelli che di libri ne ha fatti tre o quattro, a destra trovo Cecilia Cognini e poi se guardo di fronte in prima fila vedo Elena Borsa che ne ha appena fatto uno, vedo Anna Bilotta che ha fatto un bellissimo libro sulle biblioteche pubbliche e qui vedo in fondo Giovanni Di Domenico che è stata una colonna per molto tempo dei libri nostri e via dicendo. Sicuramente sto facendo torto a qualcuno, per esempio a coloro che meritatamente non sono qui, no scherzo, ovviamente perché poveretti non sono qui per ragioni di salute prima di tutto, per esempio Chiara Fagiolani che ha fatto quel bellissimo libro sul benessere in biblioteca e soprattutto Sara Di Notola alla quale auguro una pronta guarigione che è un po' se mi passo di capire l'autrice di questa giornata insomma a cui va la nostra gratitudine che è stata nostra autrice in più occasioni. Senza contare ovviamente che questi autori che ho citato sono punte anche della rivista biblioteche oggi, dell'editrice bibliografica. Ultimo ma non ultimo, l'ha già accennato Cecilia, sì, c'è un'altra istituzione tra virgolette che mi sento di rappresentare che è il convegno delle stelline. Anche il convegno delle stelline è un convegno che è diventato il convegno dei bibliotecari. È chiaro che c'è il congresso del live di cui noi facciamo tutti i parti, ma il convegno delle stelline è diventato da tempo il convegno più partecipato e più numeroso. Anzi colgo qui l'occasione per invitarvi tutti al prossimo convegno che non si terrà allo storico palazzo delle stelline dove si svolge da tanti anni, ma si terrà in altre sedi che presto vi comunicheremo perché è una ristrutturazione in corso, ci ha costretto un po' a cercare nuove location, come si suol dire. Per cui anche il convegno delle stelline mi pare di poterlo rappresentare e poterlo definire una istituzione pur sempre tra virgolette. E poi sono qui soprattutto per augurarvi buon lavoro e qui mi taccio. Allora passerei la parola a Luca Valenza, presidente della sezione Piemonte dell'Associazione Italiana Biblioteche. Buongiorno a tutti, io sono Luca Valenza, sono un bibliotecario, un tecnico della biblioteca, studio e pratico quello che Petrucciani in un interessante intervento qualche anno fa chiamò bibliotecariato. Vi parlo in veste di presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche sezione Piemonte e Valle d'Aosta, di cui vi porto il saluto e nell'augurarvi un buon lavoro inizierò raccontandovi una barzelletta da gesuita che ho sentito qualche tempo fa nelle retrovie di un convegno associativo che faceva più o meno così. Sapete qual è la differenza fra un bibliotecario e un biblioteconomo? Bene, il bibliotecario fa non sapendo e il biblioteconomo sa non facendo. Ebbene, nonostante la freddura, questa barzelletta porta con sé ancora molta della diffidenza fra le nostre due categorie, così vicine eppure alle volte così lontane. Come associazione non possiamo che essere felici di momenti come questo, dove le due anime della nostra materia vengono tenute assieme e procedono verso uno scambio ascolto reciproco al passo del tempo e dei tempi. Ma da tecnico cosa posso portarvi io come accrescimento e condivisione in un convegno dall'evocativo titolo sul confine alle collezioni delle biblioteche tra gestione e produzione editoriale e esperienze di lettura? Posso fare un po' di biblioteconomia narrativa raccontandovi qualche esperienza da bibliotecario, prima precario, che nel tempio si è ritrovato a lavorare in strutture di conservazione, in biblioteche di grande città e in biblioteche di monoposto. E di come questa sclerotizzazione mi abbia reso un multipurpose librarian. Qualche anno fa lavoravo sul confine, per l'appunto, in una biblioteca di montagna vicino alla frontiera francese. Bene, questa biblioteca, come molte altre sulla stessa linea, venivano quotidianamente usufruite dai migranti che interpellavano le nostre collezioni e la ricerca di carte geografiche proprio per varcare quel confine. Oppure, posso raccontarvi di quando lavoravo nel Vercellese, in una biblioteca in mezzo alle risaie, e di come un pomeriggio, parlando con una delle utenti con i tassi di lettura più alti di tutta l'anagrafica, questa non si è messa a raccontare che lei le scuole proprio non le aveva fatte. Da bambina aveva iniziato a lavorare in risaia come mondina e poi, una volta giunta alla pensione, non sapendo come passare il tempo, era entrata in biblioteca, aveva iniziato a leggere senza più smettere. O ancora vi posso raccontare di quando ho lavorato durante il periodo pandemico ad un incredibile progetto sul dono di libri e sull'attaccamento che le persone hanno per questa bistrattata istituzione. Questa è una storia che inizia da lontano. Precisamente nel 1904, quando durante una tristemente famosa notte la Biblioteca Nazionale di Torino bruciò con gran parte del suo posseduto. Fra le incredibili cose che successero in seguito, una cosa poco nota e che meriterebbe studio e ricerca, è quella legata all'incredibile mole di libri donati che arrivò da istituzioni, biblioteche e singole persone da tutte le parti del mondo. Una storia che ricorda quello che sta succedendo oggi con le biblioteche alluvionate in Emilia e in Toscana. Per varie disavventure una grossa parte di questi libri antichi e moderni rimasero chiusi in migliaia di scatoloni e solo oggi stanno ritornando alla luce. Tutto questo per confermare con la pratica, se ce ne fosse davvero ancora bisogno, l'agile intervento del professore Vivarelli dal titolo Le radici delle biblioteche pubbliche del futuro, dove per l'appunto individua un punto di equilibrio dinamico, inclusivo e creativo tra l'apertura sociale della biblioteca, la sua identità bibliografica, le sue collezioni, le pratiche di lettura ad essere riferita. Nel salutarvi vi lascio con un bellissimo elogio al libro e alla lettura scritto nel 1337 dal Debury, che fa così. Nel libro ritrovo i vivi e i morti, nei libri prevedo il futuro, nei libri trovo le geometrie dell'arte bellica e dai libri escono le leggi della pace. Nel tempo tutto si consuma e marcisce e Saturno non si stanca di divorare i suoi figli. L'oblio seppellirà ogni colore terrena se Dio non avesse posto rimedio inventando i libri. Grazie e buon lavoro. Applausi Applausi